Prova a raddrizzare questo set, occhio a questo Bagger, pallone vicinissimo alla rete, Stigroth sfiora, vengono dati quattro tocchi, anche se non so se la tedesca lo ha toccato davvero il pallone. Vedete che ne parlano ancora con De Grady e poi c'è anche Gaviraghi, secondo di Musso. Sono passati gli otto secondi. Alla fine, non so se era valutabile.